ciao a tutti sono angela calefato love coach e in questo video come nei prossimi affronterò un argomento legato alle crisi nei rapporti sentimentali e in generale insomma e se c'è la possibilità di riconquistare qualcuno vi spiegherò quali sono le strategie o le mosse giuste per non perderlo se si tratta di un ex se si tratta di una nuova frequentazione di una persona nuova che vi piace come non farlo scappare dopo magari il primo appuntamento allora il video di oggi parla della di un argomento molto scottante e molto dibattuto che gli uomini che scappano ci sono anche donne che scappano però il problema della relazione stabile sembra essere sempre sollevato dalle donne un problema un problema molto diffuso a oggi perché è chiaro ci sono delle cose storiche che hanno influenzato un nuovo modello di società un nuovo modello di famiglia le donne oggi sono più indipendenti sono più più libere e quindi possono non essere costretti a rimanere in un matrimonio non desiderato così come posso possono decidere liberamente di non sposarsi non avere figli perché storicamente insomma le donne non lavoravano quindi comunque avevano bisogno di di un appoggio per 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 garantirsi la sopravvivenza ai genitori nella nella fase adulta bene oggi non è così e si parla tanto di di amori liquidi come ha sostenuto bauman che è stato un filosofo e sociologo polacco che ha scritto molto sulla sulla crisi di questi tempi su come influisce sulle relazioni è vero è vero oggi scappano tutti dalle relazioni specie gli uomini e come se come dice bauman nella definizione di amore liquido tutti siamo abbiamo la possibilità di connetterci e le connessioni sono infinite oggi rispetto a prima e quindi come di connetterci anche di disconnetterci preferiamo queste modalità lo vediamo da whatsapp tutti comunichiamo con whatsapp spesso per comunicare con i nostri amici o anche con gli uomini che ci piacciono le donne che ci piacciono ci lanciamo senza buongiorno senza buonasera questi messaggi o vignette o pensieri brevi smart ecco e poi fuggiamo via magari scompariamo ci facciamo sentire il giorno dopo come se niente fosse insomma prima invece per socializzare e quindi questo e questo anche nelle relazioni prima per socializzare e conoscere qualcuno e avere la possibilità di frequentare qualcuno dovevi fare delle determinate mosse dovevi innanzitutto lavarti vestirti uscire di casa vi ricordate i ragazzi del muretto no questo riferito alle alle generazioni molto giovani ma comunque dovevi frequentare posti di aggregazione sociale le palestre le discoteche i pub le cene a casa di amici per le cene per farli conoscere per citare pupiavati un film di pupiavati oggi invece per comunicare e trovare qualcuno che sia un'avventura una relazione insomma se siamo a caccia di emozioni possiamo starcene direttamente con con le mutande e i calzini bucati la birra scolarci la birra sul divano e chattari facendo facendo i macho man facendo i dandy senza esserlo così come le donne possono fare le splendide basta che hanno una foto promozionale e o photoshopata e subito su un mese a qualsiasi ora o su tendere o su whatsapp insomma lo sape più privato però comunque c'è la possibilità di ricevere tanti stimoli e di dare tanti stimoli di conseguenza oggi è molto più semplice trattare le persone come se fossero merce del supermercato prima dovevamo accontentarci non essendoci tante possibilità avevamo la televisione allora tutti incollati a vedere quel film a quella ora magari un bellissimo di rete 4 e se non c'era altro ci vedevamo quello ci facevamo bastare quello ci faceva ci facevamo emozionare con quello oggi invece c'è un'offerta se vuoi vedere il film puoi puoi prenderti il film che vuoi e senza alcuna possibilità e senza e senza problemi di orario e la stessa cosa succede con le relazioni in fondo le persone che cosa sono gli uomini le donne sono strumento che in grado di procurarci delle emozioni se abbiamo tante possibilità di emozionarci in maniera diversa siccome l'emozione è un ciclo il ciclo delle emozioni è quello è chiaro quando finisce un ciclo passiamo ad un altro non abbiamo alcun tipo di vincolo di di e abbiamo troppe possibilità e la cosa non è neanche tanto sbagliata cioè non se siamo figli di questo tempo figli di questi demoni del nostro tempo del del progresso della comunicazione continua delle infinite connessioni non è neanche colpa nostra cioè non è che dobbiamo per forza tornare all'amore e tradizionale del per sempre è vero siamo fatti in questo modo un po tutti diciamo soprattutto se abbiamo superato una certa età e quindi non dobbiamo più aver bisogno di pensare a una famiglia figli stabilità andati oltre vogliamo tutti in fondo vogliamo tutti desideriamo tutti un minimo di sicurezza però il prezzo della sicurezza è la minore libertà e invece la libertà il prezzo della libertà qual è che rimaniamo sempre dei grandi insicuri però tra la libertà che consente relazioni con poco investimento e implicazioni impegno è una relazione stabile che al netto della libertà comunque ci costringe ad un impegno maggiore perché l'amore se non viene esercitato è un'arte cioè se non la coltivi ogni giorno poi si perde ciao ciao beh allora preferiamo sicuramente l'impegno minore il minor costo e che che ci dà comunque delle opportunità e questo è il ragionamento un ragionamento quasi economico che facciamo investimento zero emozioni tante abbiamo capito tutti che l'amore difficile che l'amore hanno scritto libri gramellini pure l'amore dura tre anni abbiamo capito tutti che tutto è impermanente e tutto finisce purtroppo l'abbiamo capito l'abbiamo ormai fossilizzato nella nella nostra testa e quindi però non vogliamo rinunciare all'idea d'eternità e l'idea d'eternità ce la procuriamo attraverso relazioni che si hanno un ciclo però con un investimento è un convergimento emotivo minore ci consentono di rinnovare questo ciclo in modo che le emozioni non finiscano mai nel prossimo video magari vi spiegherò appunto se hai proprio l'intenzione tu comunque di avere una relazione stabile perché preferisci la sicurezza alla maggiore libertà cosa fare per come cercare l'uomo giusto la donna giusta e quindi essere coinvolto in una relazione che ti mette a riparo da ansie paure ed è quell'infinito senso di solitudine di solitudine che comunque forse nella nostra fase terrena non riusciremo mai a risolvere del tutto perché l'animo umano è fatto così grazie seguitemi su youtube mettete iscrivetevi al canale se riuscito ci sono anche su facebook comunque presto anche su instagram come angela calefato love coach seguitemi in modo da rimanere sempre aggiornati sui video che farò ciao a tutti ciao